Si sono costituiti come gruppo di studenti sui social per chiedere l'annullamento dell'esame di Stato. La loro pagina Instagram si chiama Studenti d'Italia e raccoglie ragazzi provenienti da ogni parte del paese. Qui da quando è iniziata la pandemia e di conseguenza la didattica a distanza, ognuno ha avanzato le proprie proposte per tutelare quel percorso scolastico che da anni li vede impegnati in prima persona sui banchi. Di fronte alle telecamere di Fano TV, una studentessa dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, Beatrice Moffa, portavoce del gruppo di studenti pesaresi, spiega perché l'esame di Stato, almeno per quest'anno, dovrebbe essere annullato. Non crediamo che l'esame che è stato proposto dia giustizia a ciò che è stato il nostro percorso quinquennale, in quanto verrà valutato praticamente solo una parte orale dove comunque la maggior parte del tempo verrà destinata all'elaborato e per tutte le altre 13 o 12 materie che siano, a differenza della scuola, ci sarà dedicato poco tempo dove esporre un programma di un intero anno è comunque complicato, visto soprattutto i dieci mesi di dad, in quanto per varie ragioni è stato piuttosto difficile da affrontare anche a livello educativo. Avete quindi proposto al Governo un'alternativa all'esame di Stato, quale? Inizialmente l'aveva proposta anche il Ministro dell'Istruzione Bianchi, dicendo che gli alunni per essere valutati correttamente dovrebbero essere valutati sull'intero percorso che hanno fatto e quindi noi abbiamo tenuto questa proposta come partenza, diciamo. E poi comunque abbiamo ragionato sul fatto che rimuovere totalmente l'esame non sarebbe stato giusto perché comunque ci sono molti studenti come il gruppo di cui faccio portavoce che comunque hanno dedicato parecchie ore sui libri e comunque ci tengono proprio a livello personale alla scuola, quindi di mantenere l'elaborato in quanto comunque richiede determinate capacità. Cioè è stato detto che questa proposta è stata arrivata all'attenzione del Ministero dell'Istruzione e che per essere presa in considerazione sul serio doveva ricevere un certo seguito. Per questo ci siamo mossi e abbiamo cercato di contattare quante più testate giornalistiche non possibili per rendere fattibile questa proposta, sia per quest'anno che magari per gli eventuali futuri, visto che comunque la DAD ha ripercorso su diverse fasce d'età.